Non potrebbe essere diversamente, è stato nominato a loro e se ne assumono la responsabilità. Vede, io non penso che il problema che ti dico sia lo stipendio, il problema è come è stata gestita questa crisi. Sono contento se sono arrivati al 98, io ho letto, 520 mila persone ancora senza, più 300 mila autonomi, quindi 800 mila. Se sono solo, tra virgolette, 200 mila, vuol dire che stanno in questo momento soffrendo solo 200 mila famiglie, cioè 800 mila persone. Il tema è un altro, è la più grande crisi che abbia dovuto affrontare l'Inps, sì. Io mi chiedo come mai nel 1992 Giuliano Amato decise di fare un prelievo su tutti i conti correnti degli italiani. In una notte, nel 1992, su tutti i conti correnti degli italiani fu tolto X. Nel 1992, cioè quando Apple, Google non esistevano neanche, cioè l'informatica era all'inizio, non c'erano computer, non c'era intelligenza artificiale, non c'era informatica, non c'erano programmi. Per cui io capisco che 28 anni dopo si possa essere più indietro e quindi uno ci possa mettere 15 giorni, un mese, un mese e mezzo. Ma è difficile capire questa differenza perché l'Inps ha i dati di tutti. Ma la cosa che me ha fatto arrabbiare di Tridico, della vicenda a Tridico, è il fatto che lui, senza che nessuno glielo chiedesse, più volte in televisione ha dato delle date. Ha detto che entro questa data i soldi ci saranno. Non ha creato problemi a Giletti, Telesio, Di Stefano, ma c'era gente che da due o tre mesi stava aspettando quelle 700 euro al mese ed era gente che prima di prendere quelle 700-800 euro al mese ne guadagnava 1200-13004 e stava tirando la cinghia da due o tre mesi per cui quando ha sentito dire quella data ha tirato un sospiro di sollievo e quando quel giorno ha visto che non è arrivato niente ha avuto la vita rovinata ancora di più di come ce l'aveva prima. Per cui non si gioca con i sentimenti soprattutto della parte povera. E questo è il problema, secondo me, del rapporto di Tridico. Se non avesse parlato, non avesse fatto dichiarazioni...